Da questo momento, tra la guardia, Tonino è promosso a primo salto del campo, prende il posto di Mastro Giovanni. Primo salto del campo, proprio come aveva previsto Mastro Giovanni. Vedi sapere che se non aveva previsto qualcosa, pure con la ragazza da Taccigindili, perché l'estate era finalmente arrivata. La sai una cosa? Ho detto alla ragazza da Taccigindili, che cosa? C'è un colore che mi manca in testa, uno solo. E qual è? E la sua Mastro Giovanni. Pensava che questo mi veniva in automatico, no? Pensava che stava a qualche parte, veramente già pronta per uscire, che bastava solo che lei la chiedeva uscire, invece non usciva niente. E allora sto colore, insisteva lei, non te lo posso dire. E no, adesso me lo devi dire. Lo voglio sapere. Te lo dico, l'estate prossima. Ma perché dobbiamo aspettare fino all'estate prossima? Ma perché così? Ti vedo pure alle mie piedi. E lei si fa il rosso rosso in peggia. E mi ha detto, lo vedi? Mi fai solo per bere il tempo. E se ne scappate. E lei si fa il rosso rosso.